Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. La perturbazione dello scorso fine settimana si dirige verso i Balcani e dunque il satellite ci mostra una Liguria senza molte nubi. Per la giornata di oggi, lunedì 11 settembre, abbiamo dunque cieli sereni sulla costa di Centroponente, qualche addensamento a Levante, nuvolosità bassa residua sui versanti padani, progressivo diradamento nel corso del pomeriggio, venti tra deboli e moderati, inizialmente settentrionali sul settore centrale, tendenti a disporsi ovunque dai quadranti occidentali nel pomeriggio. Nuovamente settentrionali in serata, mare inizialmente mosso in aumento a partire da Ponente, fino a molto mosso per onda da sud-ovest lungo tutta la costa in serata, temperature massime in aumento domani, martedì 12 settembre, in un contesto relativamente secco, il passaggio di un impulso perturbato sul nord Italia porta a condizioni di instabilità soprattutto sul centro Levante della regione, con possibili rovesci temporali tra la mattinata e il primo pomeriggio, seguiti da ampie schiarite, mentre a Ponente prevalgono cieli sereni già dal mattino, venti moderati settentrionali con raffiche forti sui rilievi fino al mattino, nuovamente in serata, in parziale rotazione dai quadranti occidentali nel pomeriggio, mare molto mosso sul centro Ponente, localmente agitato per onda lunga da sud-ovest a Levante, temperature minime e massime stazionarie. Chiudiamo con mercoledì 13 settembre, una ventilazione settentrionale garantisce cieli generalmente sereni fino al primo pomeriggio, quando la rotazione del flusso dai quadranti meridionali favorisce la formazione di qualche addensamento sui rilievi, venti tra deboli moderati settentrionali, fino a metà giornata poi rotazione dai quadranti meridionali, mare molto mosso a Levante, mosso altrove in calo dal pomeriggio a mosso ovunque, temperature minime e massime in diminuzione. È tutto, seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it e sulla pagina Facebook di Arpal a risentirci.